Matteo Renzi è arrivato questa mattina alla stazione di Arianirpino per la nuova tappa del tour in treno destinazione Italia. Ad accoglierlo un centinaio di sostenitori, nessuna contestazione rivolta al segretario PD. Renzi si è poi subito diretto in Valle Ufita in visita allo stabilimento Industria Italiana Autobus di Flumeri. Ad accoglierlo l'amministratore delegato Stefano Del Rosso e gli operai dello stabilimento. Destinazione Italia, stazione di Ariano Irpino, aspettando Matteo Renzi. Il treno si è appena fermato. Vediamo se riusciamo a interagire con lui. Si accalcano i giornalisti. Finalmente vediamo Matteo Renzi, è finalmente arrivato. Molto bene, molto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.